Lloris, quella difesa che è andata sul net, quella palla lì, quando è successa cosa hai pensato, vinciamo? Sicuramente, perché ogni tanto un po' di fortuna anche al nostro campo ci sta, perché anche loro oggi hanno fatto delle difese incredibili e poi ho detto, prima o poi anche dalla nostra parte, invece Fatti è arrivata proprio nel momento che doveva arrivare e poi Casoli, abbiamo fatto altre due recuperi e via, abbiamo vinto la partita e adesso si va a Trento per vincere. Niente da perdere? Niente, ma che no, no, no. Una partita e si può andare a Roma, l'avresti mai detto iniziando tu che sei da qua dall'anno scorso? Ma sinceramente no, però qua è il gruppo che funziona e si vede, stiamo lavorando bene, usciamo spesso insieme e questo ci dà anche la carica in questi momenti difficili e poi i risultati arrivano. Cos'è che è scattato a Modena a un certo punto della stagione? Sembra che siate quasi un'altra squadra. Ma beh, è arrivato il nuovo allenatore, è cambiato il ritmo degli allenamenti, perché ha impostato qualche cosa di diverso e ecco i risultati. Poi sono arrivate anche delle prestazioni, tu stasera hai fatto 4-5 difese senza muro, è davvero spettacolare, insomma state tirando fuori il meglio di voi stessi. Sì beh, questo è anche merito dell'allenatore, dice, oh senti, il libro deve difendere e ricevere, poi altro ci pensano gli altri. State divertendo molto. Sì, 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 adesso bisogna avere già la testa per domenica, beh, adesso intanto andiamo a mangiare una bella cena con la squadra e poi domani si pensa per la domenica.